Di tanto in tanto, perfino io ho pronunciato le parole magiche. Mai più, Suonni. Basta con questa storia. Dici sul serio? Sì, mai più. L'ho chiuso con questa merda. Dipende solo da te. Faccio davvero stavolta, voglio uscirne una volta per tutte. L'ho già sentita questa cosa. Il metodo Sick Boy. Ah, con lui ha funzionato, eh? Beh, gli è sempre mancata la fibra morale. Sa un sacco di cose su Sean Connery. Questo non è un sostitutivo. Hai bisogno di un'altra pera? No, non credo, no. Hai davanti una lunga notte. Lo chiamavamo madre superiore per l'età della sua dipendenza. Certo che mi sarei fatto un altro schizzo. Dopotutto mi aspettava del lavoro. Rinunciare alla roba. Fase 1. Preparazione. Per questa cosa ti serve. Una stanza da cui non puoi uscire. Musica distensiva. Salsa di pomodoro. 10 scatole. Zuppa di funghi. 8 scatole. Da consumare fredda. Gelato. Vaniglia. Una confezione grande. Magnesia. Latte D. Una bottiglia. Aspirina. Colluttorio. Vitamine. Acqua minerale. Aranciata. Pornografia. Un materasso. Un secchio per l'urina. Uno per le feci. Uno per il popito. Un televisore e una boccetta di Valium. Me la sono già procurata da mia madre, che è nel suo modo domestico e socialmente accettabile, una drogata anche lei. Ora sono pronto. Mi ci vuole solo un'ultima dose per calmare i dolori. Mentre il Valium fa effetto. Mentre il Valium fa effetto.